Trump si sta preparando a mettere i dazi che colpiranno durissimamente l'economia italiana, qui siamo nel Reggiano. Hanno già colpito l'altra volta l'esportazione di parmigiano a Reggiano e mentre succede che Draghi di nuovo dice signori stiamo attenti che qua sta saltando tutto, il governo tedesco cade, l'automotive è in una situazione drammatica, noi abbiamo la Presidente del Consiglio e la leader del principale partito dell'opposizione che si scambiano battute su una frase detta dal Presidente del Consiglio che a sua volta dice noi la sinistra al caviale e in tutto questo il segretario della CGL che continua a inneggiare alla rivolta sociale. Io voglio solo che voi immaginate se Luciano Lama avrebbe mai potuto usare termini di questo tipo. Allora io credo che o noi ci diamo una regolata e la smettiamo e incominciamo a affrontare il tema della recessione che arriverà con le conseguenze sociali seriamente con un po' di numeri e di progetti o se continuiamo a fare battutine polemiche qui finisce malissimo ma proprio malissimo e anche un po' nel disonore della politica che fa questo mentre le cose profonde e tremende accadono e stanno per accadere. Diamoci una regolata forse.